Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due Tu bis uscire dalla scuola insieme ad un altro Con la mano, nella mano, passeggiava con te Sottiglia quel coso, sono geloso E se lo rivedo, gli spaccherò il muso Perché, perché, la numerica mi lasci sempre solo Per andare a vedere la partita di pallone Perché, perché, qualche volta non ci porti pure me Chissà, chissà, se davvero vai a vedere la tua squadra O se invece tu mi lasci con la mina del pallone Perché, perché, qualche volta non ci porti pure io Non posso restare seduto indisparse Né arte né parte, non sono capaci Di stare a guardare questi occhi di braccia E poi non provare un brivido detto E correrti incontro e gridarti Mi diamo con noi Ricominciamo 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 Maestro Io non posso restare Seduto indisparse Né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi